Ok, sono tornato. Dobbiamo ascoltare le informazioni sull'ultima missione, che c'è il quinto e ultimo atto, Vecchio Sole. Dobbiamo andare all'Authereven e distruggerla. Io sono Gabriel Ostai, iscrivetevi, commentate e lasciate un mi piace, come sempre in ogni video recensione che faccio, ma fatelo sempre nel mio canale. Stiamo vedendo tutti i nostri protagonisti e tutti i nostri personaggi. Ci sono altre domande da fare a Mei Ling? Sì, Snake. Sentiamo che ha da chiedergli. Sempre con questa sigaretta, ma la finisci e la fai finita, Snake. Hai un vizio di fumare.